Quello di Dio, nella ferma volontà di donarmi più intimamente a Lui e di seguire Cristo più da vicino in tutta la mia vita, alle presenze della sorelle e nelle tue mani, su Monica Ciasca, delegata della Superiore Generale. Io, su Riolanta Scurupa, faccio voto per due anni di castità, povertà e obbedienza, secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Suore Missionarie di San Pietro Claver. Mi affido con tutto il cuore a questa famiglia, affinché, con la grazia dello Spirito Santo, l'aiuto della Beata Vergine Maria di San Pietro Claver e della Beata Maria Teresa, possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa, a favore delle missioni. Amen. Grazie.